ciao a tutti nesini siamo qui in un nuovo video allora oggi mi è arrivato un pacco questo qua che andremo ad aprire insieme ho già sbirciato cos'è però voi ancora non lo sapete e in più questo che è un regalino che mi ha fatto una mia amica una mia collega tra l'altro di università che me l'ha portato praticamente è andata in vacanza e me l'ha preso al disney store finalmente anche io ho un ufufi e io li adoro però non ne ho mai avuto uno perché non abito vicino al disney store e prenderli dal sito costa sempre un po la spedizione sono sempre 6 euro quindi non conviene ce ne prendi due praticamente e quindi niente ora andiamo a vedere l'ufufi e poi andiamo ad aprire il pacco e vediamo che cosa contiene allora eccoci qua dunque ha la sua diciamo targhetta però io l'avevo staccata ma ve la faccio comunque vedere eccola qua dal disney store appunto il prezzo non lo so perché appunto era un regalo però sul sito dipende dal tipo credo stiano intorno ai 6 7 euro non lo so però ditemelo nei commenti e questo è quello di daisy di paperina è veramente adorabile e ha il profumo ha di mela apple blossom e è veramente buonissimo è delicato insomma non è fortissimo quindi è molto molto buono e sono super morbidi non pensavo fossero così morbidosi sono veramente belli e niente ha il suo fiocchetto il e il pelo qua e qua è molto molto bella super pastellosa e ce ne sono di tantissimi tipi c'è anche stitch ovviamente paperino tumbo tutti molto molto belli e questo è il suo tag qua c'è scritto fufi e qua disney è veramente adorabile veramente veramente bello adesso andiamo a vedere il nostro pacchetto e vediamo che cosa contiene allora vediamo eccolo qua contiene una nuova pasta furba della chica boom eccola qui allora la novità è che allora è simile a quella che vi ho già recensito però quindi si può sempre scrivere sopra la pasta furba con la luce uv però sono questa volta fluo e metal come colori quindi adoro e piaceranno sicuramente tantissimo ai miei amici perché le hanno adorate le altre ovviamente ci potete giocare molto maneggevole costano 3 euro e 99 e dentro ci trovate degli stencil la lucetta e la pasta furba appunto e poi è gommosa quindi potete usarla anche per farci delle delle palle rimbalzine andiamo a vedere allora qua c'è il poster e qui c'è tutta la variante che ora andremo a vedere non le apriremo tutte ma vi faccio vedere quali colori ci sono allora iniziamo a vedere tutti quelli fluo allora eccoli qua abbiamo il primo è questo qua arancione veramente veramente bello eccolo qua dopo li andiamo tutti ad aprire poi abbiamo questo qua verde oppure questo mi piace un sacco lo sapete adoro i colori fluo questo fucsia che penso sia uno dei miei preferiti poi abbiamo questo qua violetto non è proprio super fluo però vabbè poi abbiamo questo qua che è bianco dovrebbe essere e poi abbiamo questi altri due questo qua giallo che è un altro dei miei preferiti e questo celeste poi abbiamo quelli metal allora quelli metal sono questo qui vedete hanno tutta la la cosa metallizzata intorno molto carino dopo lo andiamo ad aprire poi abbiamo questo celeste quello tipo verde verde magenta e questo argentato pure stupendo e questo che dovrebbe essere tipo dorato pure questo deve essere veramente bello allora io direi di aprirne sicuramente uno fluo e uno metal direi di aprire questo qua dorato e poi questo giallo vediamo intanto come sono allora hanno una pellicola fuori che va tolta quindi questa l'ho tolta e praticamente abbiamo allora il nostro la nostra lampadina che credo sia in colori diversi ma dopo lo andiamo a vedere questa qua è arancione abbinata al al dorato poi abbiamo la nostra bustina di pasta furba dorata e uno stencil di una tigre quindi top io adoro le tigri lo sapete andiamo a vedere com'è molto molto dura quindi non si secca eccola qua allora voi ovviamente dovrete un po' impastarle un pochino untuosa all'inizio però vabbè è parecchio dura come vi dicevo e quindi è molto resistente veramente veramente dura non è certo uno squishy o uno slime proprio ma è appunto la classica pasta furba rifatta sul tipo della pasta intelligente ovviamente allora eccolo qua allora è un bel colore abbastanza dorato scusate la luce se non è il massimo ma piove da giorni qua comunque ecco andiamo a vedere come scrive dunque è veramente carino la diventa tipo sul marroncino viola guardate che spettacolo è veramente favoloso adoro queste paste furbe sono fatte benissimo quindi ve le straconsiglio anche perché quelle che ho avuto cioè sono state veramente apprezzate anche che ha ai miei amici che a quelli ho regalate eccole qua poi ovviamente più ci state più si colora vedete? e dopo un po' ovviamente sparisce potete ridisegnarci quindi è veramente bello quindi questa era la prima poi andiamo a vedere quest'altra allora vediamo un po' dove si apre eccola questa gialla mi piace un sacco già lo vedo questa ha la lampadina gialla infatti e queste emoji con il gattino la faccina con gli occhiali e la cacchina questo giallo è veramente bello di colore i fluo penso siano i miei preferiti però mi piacciono entrambi eccola qui veramente durissima allora so che dalla fotocamera non si capisce ma è veramente giallo fluo è un bel bel colore alla luce del sole sicuramente sarà fantastico purtroppo il sole come vi ho detto oggi non c'è e quindi non riesco a farvelo vedere al meglio ma andiamo comunque a fare a usare uno degli stencil e a vedere come vengono allora basta appoggiarli qua prendiamo la nostra lampadina e vediamo come vengono allora uno due oh oh che carino vabbè più li lasciate più si colorano però che bello è proprio carino che spettacolo adoro queste paste furbe sono troppo belle scriviamo un'ultima cosa e ve le straconsiglio intanto l'avrete capito che carini adoro vabbè queste sono troppo belle sono super approvate ditemi se piacciono anche a voi ma ve le straconsiglio e sono molto più dure delle scorse se non sbaglio sono ancora più dure quindi sicuramente sono anche più resistenti e niente questo è tutto poi le altre cambia solo il colore quindi non ve le sto ad aprire tutte ma sono molto molto belle gli stencil ovviamente variano da animali a scritte a emoji quindi insomma poi quelle sono randomiche quindi è inutile che ve le faccio vedere ma le ritroverete insomma casuali comunque i colori ve li consiglio entrambi sia il metal che il fluo mi piacciono veramente tantissimo e niente ditemi insomma se vi piacciono e se le acquisterete o se le avete acquistate già quelle della scorsa volta a me le hanno piaciute un sacco ai miei amici piaceranno sicuramente ditemi se avete degli ufufi e se vi piacciono o se preferite gli ufufi o gli zum zum io devo dire mi piacciono entrambi forse come design preferisco però gli ufufi ditemelo nei commenti noi ci vediamo in un prossimo video se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su iscrivetevi al mio canale e rimanete sintonizzati perché youtube veramente questo periodo sta facendo un macello se non avete già visto il video di favij andatelo a vedere perché è molto molto illuminante noi ci vediamo presto vi mando un bacione ciao